Benvenuti su AMF Channel. L'emozione è palpabile mentre ci avviciniamo all'episodio finale di Terra Amara, la celebre sopopera turca che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori. Con le trame avvincenti e i personaggi intriganti, la serie ha tenuto incollati allo schermo i fan per quattro stagioni, e ora tutti sono impazienti di scoprire cosa riserva l'ultima puntata. I cambiamenti nella programmazione hanno fatto sì che Terra Amara andasse in onda solo due volte a settimana su Canale 5, ma questo non ha affatto diminuito l'interesse del pubblico. Le anticipazioni circolano sul web, alimentando le speculazioni e le aspettative dei fan, che non vedono l'ora di immergersi nell'epilogo tanto atteso. Nell'ultima puntata, i destini dei personaggi si intrecciano in modo imprevedibile, lasciando tutti a bocca aperta. Ilaida Cevic, che interpreta la spietata Betul, ha fatto delle rivelazioni sorprendenti durante una recente apparizione a Verissimo. Ha confessato di amare il suo personaggio e di essere rimasta stupita dal successo della serie. Mentre molti personaggi hanno detto addio alla sopopera nel corso delle stagioni, Betul continua a dominare la scena con la sua malvagità sempre crescente. Le anticipazioni suggeriscono che il suo ruolo sarà determinante nell'episodio finale, portando a una conclusione carica di tensione e sconvolgimenti. Tra le anticipazioni, spicca il destino della figlia di Sermin, che si trova di fronte a una rivelazione scioccante sul suo matrimonio con Kolak. Mentre credeva di aver ereditato ricchezze e proprietà dal presunto marito defunto, scopre che i documenti matrimoniali erano falsi e che Kolak è ancora vivo. Il cliffhanger finale promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre le rivelazioni e le sorprese si susseguono. Cosa accadrà davvero nell'ultima puntata di Terra Amara? Solo guardando l'episodio potremo scoprirlo. Non vediamo l'ora di assistere a questa conclusione epica. Cosa ne pensate voi? Ditelo nei commenti. Ricorda di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Grazie per aver guardato il video.